Salve ragazzi, oggi facciamo una pasta al forno o lasagne come si chiama nel nord dell'Italia, mentre invece a macerata si chiamano gli vincisgrassi, vincisgrassi penso che sia una parola, vincisgrassi penso che sia la vincita dei grassi, diciamo così, tutto con la musica dei, un attimo mi metto gli occhiali, che se no non ci vedo, dei verdena con requiem, madonnina ragazzi, requiem, speriamo che non sia requiem, scantimpaccia, amen. Ingredienti che sono carota, sedano e cipolla, carne trita o un po' mista, passaggio di pomodoro, uova, farina, spieghiamo dopo quando si mette tutto nel piatto dove poi andrà in forno. Più che requiem, questi sono un po' disperati, verdena, che significa? Che significherà? Un po' l'agnosetti? C'è poco ritmo? Claudio Baglioni c'è tutto perché c'è la voce così bella, melodiosa, si è un po' gonfiando, si è fatto qualche punturella probabilmente. Gianni Morandi invece, ecco, Gianni Morandi è l'unico che secondo me, adesso non vorrei sbagliare, secondo me non si è fatto niente, ma è l'unico che resiste, che vuol dire? Co, pro, falo, che? Co, pro? Io ve lo raccontare a queste cose. Come dire che è una tipa? Che ne sai se mai rido in lei, se mai ne puoi, ne io, ma Dio è gay. Ma che dice questo? Un po' forte. E poi lui che ne sa? Adesso anche gli after hour, gli after hour, gli after, che quelli mi piacciono. Li sento, mi piacciono abbastanza, non tutte le canzoni, però sono simpatiche, gradevoli. Adesso i titoli non me ne ricordo sinceramente. Chissà se loro la maniate mai, mi ingi i grassi qui, sì. Aspetta, eh, che si chiamano i verdena. Allora, uno ha un paffutello, questo su la destra. Ah, è una ragazza? Madonnina. Adesso forse perché c'è la collana, se no così non è che si capisce tanto che è una ragazza. Allora, io al concerto di Verdena, mia figlia a noi glielo consiglierei di andarci. Qui mettiamo anche un po' di mozzarella, il formaggio, un po' di mozzarella. Perché non, io credo che anche sul palco questi, pare disperati, così eccetera, ma poi fanno una musica... Non ritmo... Cioè... Quindi? Che movimenti vuoi fare? Gli ingi i grassi sono pronti. Ecco qua. Guardate come sono belli. E poi fra un po' sentiremo invece quanto sono buoni. Perché ce li mangiamo noi. Il tutto con la musica dei Verdena. Requiem dei Verdena. Mi dispiace per loro, ma sono ragazzi che sono morti e non se ne sono accorti. Grazie, ciao.